Ciao, sono Silvio Livassi, responsabile dell'ufficio Big Data Analytics, lavoro all'interno del servizio Data Analytics e mi occupo di coordinare il team di data science di circa 15 persone. Siamo il gruppo di data scientists di riferimento per la banca e il nostro obiettivo principale è quello di promuovere l'intelligenza artificiale a supporto delle attività di business del gruppo. Il team definisce le linee di indirizzo, gli standard metodologici e gli strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre promuoviamo la diffusione della cultura aziendale sia in ambito dati sia in ambito AI, ad esempio organizziamo dei workshop nelle varie aree con lo scopo di definire che cos'è l'intelligenza artificiale e come può essere utilizzata nel nostro contesto. Capire i dati significa supportare il business a conoscere meglio la nostra clientela. Questa necessità è stata indirizzata attraverso il progetto Data Driven Bank. iExcellence punta a sviluppare modelli analitici basati su tecniche di machine learning e deep learning. Alcuni esempi di casi d'uso sono ridurre l'abbandono dei clienti, diminuire i fasi positivi nell'identificazione di operazioni sospette oppure trovare delle informazioni chiave all'interno i documenti attraverso l'analisi del testo. Sono entrato come collaboratore nel 2020. Ultimamente sono stato promosso come responsabile di ufficio ed è un orgoglio per me essere all'interno di un'azienda che crede molto nei giovani facendoli crescere dall'interno.